È il mantello che simboleggia proprio il prendersi cura, l'accogliere, l'ascoltare, il proteggere, così come fanno le cure palliative con le persone. E da oggi qui prende la forma particolare di un aquilone, perché l'aquilone solleva dal dolore. Un mantello di 260 metri quadri, formato da oltre 3.000 mattonelle di tessuto, fatto da oltre 100 volontari di file, la Federazione Italiana Alleni Terapia, che oggi guadagna il centro di Piazza Ogni Santi a Firenze. File è un punto di riferimento sul nostro territorio, lo è sempre stato, per cui appoggiare questa iniziativa che manda un messaggio simbolico e concreto contemporaneamente per noi è estremamente importante. La Fondazione Italiana di Alleni Terapia da 20 anni offre cure palliative gratuite a domicilio su territori di Firenze, Prato e le loro province. Le equip sanitarie e i volontari di file accompagnano chi non può guarire in un percorso di cura personalizzato, in cui vengono leniti il dolore e la sofferenza fisica, senza trascurare gli aspetti psicologici, relazionali, sociali e spirituali. File porta assistenza alle famiglie, non solo psicologica, con i medici, gli infermieri, i fisioterapisti e con i gruppi di mutuo aiuto per le famiglie e per quelli che rimangano. Quindi File abbraccia, come questo mantello, abbraccia le persone che hanno bisogno in un momento così difficile.